Benvenuti a questo nuovo video nel quale, come recita il titolo, vi voglio spiegare come possiamo proteggere i nostri documenti firmandoli e o criptografandoli, o cifrandoli, come si dice, mediante il metodo, il sistema PGP. Ecco, questo perché? Cos'è lo scopo? Diciamo che nei video passati abbiamo già trattato il tema di proteggere i nostri dati salvati nel nostro PC, proteggerli per esempio criptografando, cifrando la nostra home dove sono contenuti tutti i nostri dati. Ma questo protegge, preserva da furto e da sguardi indiscreti i nostri dati presenti sul PC, ma non se scambiamo documenti per esempio via mail. Cosa vuol dire? Noi scriviamo un mail a qualcuno, alleghiamo il documento, lo inviamo e cosa succede nel suo tragitto del mail? Nel tragitto del mail non lo sappiamo per sicuro. Ecco che se il documento è particolarmente delicato, privato, importante, è bene o sarebbe bene prendere l'abitudine di proteggere questo documento, sia criptografandolo che firmandolo o almeno firmandolo. Ecco che ci viene in aiuto il sistema PGP che è già presente in Ubuntu o comunque facilmente installabile in Ubuntu. Il sistema più a portata di mano, diciamo, è il più facile da attivare e da utilizzare. Allora, per prima cosa vi faccio la parte pratica, diciamo, vi mostro cosa vuol dire firmare o criptografare un documento con questo metodo quando sul vostro PC è già tutto predisposto per utilizzarlo. Così capite cos'è l'obiettivo finale di questo video tutorial e poi passeremo a capire cosa bisogna fare per installarlo, cosa ci serve per gestirlo, cosa ci sta dietro il sistema PGP, qualche concetto per capire come funziona e anche quale strumento abbiamo in Ubuntu per gestire questo sistema. Allora, partiamo con ordine dal primo capitoletto, quindi l'utilizzo del sistema. Io ho questo file, messaggio, vedete qui, messaggio.txt che è un file di testo, stupidissimo file di testo creato allo scopo di questo video con dentro tre righe praticamente, un po' di asterischi, una riga di testo e altre asterischi, così tanto per avere un file con un certo contenuto. Premessa, sto usando un file di testo ma è assolutamente indifferente il tipo di file per questo sistema, cioè io posso firmare e o cifrare, criptografare qualsiasi tipo di file, che sia un video, un'immagine, un file audio, qualsiasi, non c'entra niente. Cioè il file di testo è quello più semplice da utilizzare, più snello, però potete proteggere qualsiasi tipo di contenuto che ci sia sul vostro PC. Quindi come si usa? Allora, incominciamo con la firma, io voglio firmare questo messaggio. Quindi cosa faccio? Tasto destro nel mio file manager Nautilus, dove ho il mio documento e scendo nel menu e vedo che c'è un'opzione firma. Clicco su firma e mi chiede con quale firma voglio firmare il documento e naturalmente io preventivamente mi sono già creato le mie firme che poi vedremo che sono necessarie. Però qui appunto vi voglio mostrare puramente come funziona il sistema, poi non ponetevi delle domande adesso perché sarà tutto spiegato in seguito. Quindi scelgo una mia firma, faccio ok, mi viene chiesta la password con la quale la mia firma è protetta, faccio ok e viene creato un file che accompagna il messaggio originale. Allora, il nome del file è ben preciso nel senso che replica il nome esattamente del file originale, quindi messaggio.txt, punto un'estensione sig che vuol dire praticamente la signature, la firma in inglese, quindi proprio firmato. Cosa succede a questo punto? Il file della firma ovviamente deve sempre accompagnare il documento originale e la firma serve per garantire che nel tragitto email dalla partenza, quindi noi che spediamo questo messaggio al nostro recapito, durante il tragitto nessuno si è intromesso per modificare il file originale, perché questo? Perché se a questo punto con il file firma faccio tasto destro, apri con verifica firma oppure doppio clic sul file della firma, vedete che qui mi appare un fumetto, una notifica che mi dice messaggio.txt, firma valida, l'avete visto, lo rifaccio perché è sparito, firma valida, firmato da Nicola Elmorini con la mia chiave il data tal dei tali, ecco, questo che ho appena fatto è il controllo della firma e dell'integrità del messaggio originale. Qualora io modificassi il file originale, cioè diciamo che faccio finta di essere il lacquer di turno che interviene nel mio messaggio email e mi modifica il messaggio, salvo il mio messaggio originale che a questo punto è modificato, chi riceve il mio email con il messaggio che però è stato modificato, verifica la firma per sapere se è come io l'ho mandato il messaggio, se è ancora integro, quindi fa la sua bella verifica ed ecco che messaggio firma errata, vedete qui c'è scritto firma errata o contraffatta, i dati firmati sono stati modificati. Rifaccio così potete leggere il fumetto, i dati sono stati modificati, attenzione, in effetti io ho modificato il messaggio originale, quindi qui avete capito come può essere utile la firma digitale, quindi io per email mando questo documento a un mio recapito, il mio recapito riceve il documento, lo scarica assieme alla firma, che naturalmente io devo mandare entrambi al recapito, e il mio recapito, il destinatario del messaggio può fare una verifica firma e capire se è stato contraffatto o meno il messaggio, il documento originale. In questo caso io appunto ho simulato una contraffazione, avete visto che il sistema reagisce via visa. Questo è il primo utilizzo, con questo primo utilizzo cosa abbiamo? Abbiamo a che fare comunque con l'invio del documento originale in chiaro, cioè leggibile, in forma leggibile, ovvero il mio messaggio .txt se viene intercettato durante il tragitto dell'email può essere comunque consultato, non necessariamente modificato ma magari a qualcuno di malevolo interessa semplicemente consultare il mio documento. E la firma garantisce solo che sia integro, ma non lo protegge come contenuto. Ecco quindi il passo, il secondo passo che è la cifratura o la criptografia del messaggio. Quindi il mio documento originale, di nuovo tasto destro, posso usare l'altra opzione che non è firma ma cifra. A questo punto vedete che mi appare un altro tipo di finestra che mi chiede a chi è destinato questo messaggio che sta per essere, questo documento che sta per essere cifrato. Perché il concetto adesso è diverso. Io applico una criptografia al documento originale in modo che sia illegibile a tutti, ad eccezione di coloro che io scelgo fra i miei destinatari che dovranno essere in grado di leggerlo il documento, ovviamente, se no non serve a nessuno se io lo mando criptografato e poi non riesce ad aprirlo, il mio recapito. Ecco che, giusto per fare l'esercizio, io me lo posso per esempio, è uguale, posso mandarmelo, giusto per fare l'esercizio, me lo mando a uno dei miei mail, tra l'altro probabilmente non esiste neanche più questo mail, comunque questa è una mia chiave, è stata costruita con questo email, ma l'email non è necessariamente legato a una chiave, vedete che questa chiave è stata costruita senza indirizzo email, comunque fa niente, questa è una chiave del sistema PGP, la chiave del presunto destinatario, sono sempre io ma facciamo finta che sia qualcuno, qualcun altro, e dico ok, questo documento, ci applico la criptografia, lo invio via email, ma io so già che lo invierò a questa persona, magari anche a questa, magari anche a questa, eccetera, posso farlo con più persone, adesso lo faccio con una, e vabbè non lo firmo, qui potrei addirittura firmare e criptografare nello stesso tempo, però in questo caso scelgo di non firmarlo perché l'ho già fatto prima l'esercizio, quindi scelgo solo di criptografarlo, faccio ok, ed ecco che cosa appare, appare un altro file con lo stesso nome del file, del messaggio, del documento originale, punto PGP, ecco questo è il documento originale, ma in formato illegibile, illegibile a tutti, a parte i miei recapiti che ho scelto un attimo fa, quindi questo oggetto, questo file, sarà quello da inviare i miei recapiti, ma non più assieme al messaggio originale, ovviamente, perché quello è leggibile, ma verrà mandato esclusivamente questo, e questo, vediamo se riesco ad aprirlo, ecco vedete, questo è un disastro perché naturalmente in forma criptografata, è illegibile, vedete che l'editor di testo mi fa vedere un vero casino di caratteri strani perché è illegibile, ma questo è esattamente questo criptografato, criptografato in modo che i recapiti che ho scelto possano però decifrarlo e poterlo vedere. Come si fa a decifrarlo? Quindi adesso simuliamo di essere il recapito, quindi colui che ha ricevuto il messaggio, o con lei che ha ricevuto il messaggio, e mi scarico dal mio email allegato che è questo, e cosa faccio? O tasto destro, apri con decifra file, oppure doppio clic, e a questo punto mi dice, ok, ti rimetto in forma leggibile il documento, dimmi come devo chiamarlo, magari lo chiamo così, vediamo un po' cosa succede, e faccio salva, mi chiede la puzzle che protegge la mia chiave, quindi del recapito del ricevente, e mi crea di nuovo il documento leggibile, quindi tenete presente che adesso sto simulando di essere colui che riceve il documento messaggio.txt, quindi non ho a disposizione questo originale, ma ho a disposizione solo questo criptografato, me lo sono estratto, ed ecco che è riappasso in forma leggibile, messaggio 2 è riappasso in forma leggibile. Il vantaggio di cifrare rispetto al solo firmare è ovvio, è che io mando un allegato via email, che non è leggibile nemmeno come documento originale, come ho detto prima, la firma non fa nient'altro che verificare l'integrità del documento, che però verrebbe inviato in forma originale, e quindi leggibile, intercettabile, leggibile come contenuto, se non volete nemmeno quello, lo cifrate, avete visto il meccanismo. Questo, immagino che se non avete mai usato il sistema vi ha fatto nascere molte domande, ma come qui, come là, era solo per mostrarvi l'atto finale, diciamo. Alla fin fine, quando avete preparato tutto, avete a disposizione tutto, potrete fare questo, e quindi crearvi un traffico email con degli allegati sicuri, protetti, perché sapete benissimo che il traffico email è aperto, non è protetto, non è necessariamente protetto, e si mandano milioni di email al giorno, ma se vengono intercettati non c'è protezione. Quindi questo è un modo semplice, banale, come avete visto, a portata di mano, per proteggere i nostri allegati, qualora ce ne fosse bisogno, per carità non bisogna essere paranoici, ma se un documento è un po' delicato, personale, avete visto, due click costa veramente poco proteggerlo e mandarlo protetto al nostro recapito, che potrà tranquillamente ricostruirlo in forma leggibile, o visibile, se è un'immagine, se è un video, eccetera, eccetera. Ecco, visto la parte pratica, passiamo un po' alla preparazione del sistema, quindi quando voi installate Ubuntu, diciamo da nuovo, voi fate una nuova installazione, non è proprio tutto pronto, bisogna ancora installare qualcosina affinché questo sistema, come l'ho usato io, possa essere appunto disponibile e funzionante. Per prima cosa, dobbiamo installare dei plugin per Nautilus, che è il nostro file manager, questo, plugin che riguardano Seahorse, che vuol dire in inglese cavalluccio marino, un nome simpatico, che però è il sistema, è il programma di gestione delle chiavi e del sistema PGP, delle password, eccetera, che è presente in GNOME e quindi in Ubuntu, che si chiama appunto Seahorse. Ci sono dei plugin, che vanno installati, che non sono installati per difetto. Quindi Ubuntu Software Center, cercate Seahorse, il nostro bel cavalluccio marino, e vi vengono elencati appunto i plugin, che sono questi, decifra file, porta chiave e verifica firma. Voi installate questi tre, vedete, io ho già i vistini verdi, perché ovviamente ho già installati, e questo è il primo passo. Installate questi tre, poi bisogna far ripartire Nautilus, o fate ripartire, la prossima volta fate ripartire il PC, diventeranno attivi, fate voi, comunque. Una volta installati, le opzioni con il tasto destro appariranno, queste cifre firma saranno disponibili. E questo è il primo passo. Poi, purtroppo, e questo è, non so perché, comunque in Ubuntu 12.04 c'è questo difetto nei lanciatori che vengono installati dai plugin che abbiamo appena visto, che non funzionano proprio correttamente una volta installati. Questo l'ho trovato proprio, scoperto solo per Ubuntu 12.04, perché nella versione che usavo precedentemente, la 10.04, per esempio, funzionava già tutto. Qui, purtroppo, ho scoperto che ci sono dei difetti, ho già anche segnalato con un bug questo problema. Ma, verosimilmente, nella prossima versione non ci sarà più. Comunque, dobbiamo far fronte, quindi fare delle correzioni una tantum, una volta installati i plugin, per questi difetti. E non è granché, però, nell'ordine, dobbiamo pensarci noi manualmente, pazienza. Quindi, i lanciatori cosa sono? Sono tutti quei file che permettono di lanciare le applicazioni, di far partire i programmi, cioè quelli che stanno sotto, qua, praticamente, nella lens dell'applicazione. Tutte queste icone ci stanno dietro i cosiddetti lanciatori, fra i quali ci sono anche quelli del tasto destro, del mouse, che permette di decifrare questo, per esempio. lanciatore, oppure quello della firma, questo, verifica con la firma, ecco. Prima di fare le correzioni non appaiono in questo modo le cose come dovrebbero. Noi andiamo a correggere i lanciatori per farli apparire così, come li avete visti qui da me. E quindi, quando si installano i pacchetti, i lanciatori vanno a finire in questa cartella, OS di sistema, USR, Share Applications. Quindi, per poter modificare i lanciatori qua dentro, dovete accedervi come amministratore, in modo più semplice, così, senza aver installato nulla di particolare, è aprire un terminale e scrivere SUDO Nautilus, vi chiederà la password e poi accedete al file manager in modalità di amministratore, quindi potrete anche editare e modificare i file che sono necessari. Questo ve l'ho già detto in altri video, quindi lo saprete. E quindi procediamo. Allora, i due file da toccare sono quelli, i lanciatori sono quelli. Uno per la signature, che è questa qui, quella della firma, e l'altro per l'encrypt, cioè quello per cifrare. Quello della firma, che si chiama così, lo vedete qui, seahorsepgpsignature.desktop, l'altro seahorsepgpencrypt.desktop, sono dentro qui appunto, andiamo a cercare. Uno si chiama, verifica la firma, quindi dal vostro Nautilus file manager in modalità amministratore, aprite, lo aprite in un editor di testo, come il gedit qua, come li ho già aperti io, quindi aprite questo file, e andate ad aggiungerci al comando che esegue questo lanciatore, vedete, exec, quindi questo è il comando, l'originale si finisce qui, però per funzionare correttamente bisogna chi di spazio per cento F maiuscola. Voi aggiungete questo e poi funzionerà come si deve. Dimenticanza degli sviluppatori o di chi pacchettizza i plugin, fatto sta che in Ubuntu 12.04 c'è questo difetto, quindi ci aggiungete spazio per cento F e in fondo verificate che ci sia anche la sua bella icona, perché funziona anche senza icona, però è carino vedere per la firma il sigillo qua dell'icona che simbolizza la firma, è carino, quindi verificate che ci sia. Qui ho messo cos'è che bisogna fare, nella descrizione del video troverete naturalmente queste informazioni e anche i percorsi dove andare a prendere l'icona qua. Per fare un copy e incolla mettete icono uguale a quello ed è a posto. E questo è il file di il lanciatore per il gestore delle firme, per la verifica delle firme, parimenti per il lanciatore che lancia appunto lo strumento per crittografare rispettivamente decifrare, decrittografare il file, non ha il problema del percento F ma gli manca l'icona che sarebbe poi la bella chiavetta che rappresenta la crittografia, la bella chiavettina dorata qui. Ecco, potete mettere a questo percorso copy e incolla icono uguale e siete a posto. Salvate questi due file che poi risulteranno naturalmente come lanciatore qui chiavetta e rispettivamente il sigillo delle firme che avete visto qua e siamo a posto. Questa è una parte diciamo che non dovrebbe essere normalmente necessaria perché è proprio un difetto nell'installazione dei plugin che non dovrebbe esistere, in effetti di solito non c'è. Quindi ho dovuto segnalarvelo ma solitamente fate conto che questa parte dovrebbe essere superflua. Allora, torniamo a noi. Quindi abbiamo installato, abbiamo corretto i lanciatori, abbiamo rifatto partire Nauti, lo so, il PC e quindi come avete visto usare a me sono pronti per essere usati questi due plugin, uno per le firme rispettivamente per la cifratura o decifratura dei documenti. Ecco, fatto questo, vediamo un po' se ho detto tutto, sì. Parliamo un attimo, senza appesantire troppo il video, spero, parliamo un attimo del principio. Di cosa sto parlando? Di questo PGP? Cos'è in fin dei conti? Questo è un sistema che viene spiegato qua in questa pagina di Wikipedia che ovviamente vi lascio il link, così potete approfondire come volete. Non stiamo qui ovviamente a leggere la pagina di Wikipedia, ma vi riassumo brevemente i concetti. Quindi, crittografare. Ecco, l'azione di crittografare cosa implica? Comunque che ogni partecipante al sistema PGP genera sul suo PC una coppia di chiavi, quella pubblica e quella privata. Ecco, questo vedremo come si fa a generare una chiave. Chiave, la qual chiave è quella che mi avete visto usare, per esempio, per firmare, per firmare il documento. Lui mi ha chiesto con quale chiave. Queste sono le mie chiavi personali. Ecco, sono queste le chiavi. Ecco, la coppia di chiavi si dice pubblica e privata, perché già dal nome, privata ed esclusivamente mia, deve restare esclusivamente mia, e pubblica è quella che è nota a tutti. Cioè, io conosco le chiavi pubbliche dei miei recapiti, cioè a colore i quali posso inviare documenti firmati o crittografati con questo sistema, rispettivamente gli altri conoscono la mia chiave pubblica per a loro volta mandare a me documenti protetti. Mentre quella privata è di ognuno, cioè ognuno ha la sua privata, che naturalmente, per definizione, è privata e propria e non deve essere distribuita. Ecco, quindi chiavi che devono essere necessarie, se no non si può partecipare, diciamo, a questo sistema, a questo scambio protetto. Il sistema, il mittente, quindi poniamo io voglio mandare qualcosa a qualcuno, quindi sono il mittente, usa la chiave pubblica del destinatario, che ho appena detto che io la conosco, ovviamente, sendro pubblica, per creare una chiave segreta, detta di sessione, comune solo a noi due, cioè io e il mio destinatario conosciamo questa chiave segreta, perché è creata con la chiave pubblica del destinatario, quindi noi due, io ho il file originale e quindi per me è a posto, lo conosco, e il file crittografato sarà crittografato con una chiave che io creo sulla base della chiave pubblica del destinatario. So che sono un po' complicate queste cose, più da spiegare che poi da capire il meccanismo in quanto tale, però tant'è, la teoria è questa. Giusto per non lasciarvi completamente a nudo della teoria, anche se poi la pratica, avete visto, è molto semplice da usare, ma insomma ritengo che capire cosa si sta facendo sia anche importante, quindi cosa succede dietro quando crittografate, in realtà io come mittente rendo illegibile il documento originale grazie alla chiave pubblica del destinatario al quale voglio inviare questo documento in sostanza. Poi invio il mio messaggio e cosa succede? Il destinatario ovviamente lo riceve e lo può decifrare grazie a questa chiave che è stata creata mediante la sua chiave pubblica che ovviamente lui conosce essendo la sua, e quindi può decifrare il messaggio. Il trucco e la protezione dove sta? Che solo quel destinatario, quei destinatari se sono di più, può aprire il messaggio perché il sistema, la crittografia è stata applicata sulla base della sua chiave pubblica che è legata alla sua chiave privata che solo lui conosce, quindi tutto il sistema è protetto proprio per questo, perché io decido a chi mandare il messaggio con il documento crittografato che è stato crittografato in un modo che solo il destinatario e quel destinatario può aprire. Nel mondo, siccome la chiave privata è solo sua, non ci sarà nessun altro che può decifrare quel messaggio a meno che non sia lui che possegga quella chiave privata legata a quella chiave pubblica che io ho usato per crittografare il documento originale. So che quello che ho appena raccontato suonerà come un gran casino per voi, però magari leggendo con più tranquillità, magari fermate il video e leggete con più tranquillità il testo che ho scritto qui, sarà sicuramente più chiaro di quello che sono riuscito a dire io, me ne rendo conto però. abbiate pazienza. Il firmare non è tanto diverso come meccanismo, però avete visto la differenza tra firmare e crittografare, quindi il mittente firma un documento, questa volta mediante la sua chiave. Quindi io che voglio inviare un documento firmato a un mio destinatario, firmo ovviamente non con la sua firma ma con la mia. E come la firma è fatta a mano per intenderci, io ho bisogno di una mia firma per firmare il documento, quindi questa volta lo firmo con la mia chiave e non con quella del mio destinatario. E il sistema appunto crea il file con la firma che abbiamo visto qui, .sig e invia entrambi, ovvero il documento originale e il file della firma, li invia entrambi al destinatario. e cosa succede? Il destinatario riceve appunto il documento originale che può tranquillamente consultare perché non ha nessun tipo di impedimento, essendo in forma originale, però con la firma può controllare che sia valido questo documento nel senso che non sia stato modificato. E lo può controllare perché? Perché lui conosce la mia chiave, questa volta la mia chiave pubblica, e facendo tasto destro o tasto destro verifica la firma, il mio destinatario può controllare grazie alla mia chiave pubblica che il mio documento firmato da me con la mia chiave privata è valido. Quindi è tutto un gioco di chiave pubblica legata alla propria chiave privata, la quale chiave pubblica viaggia avanti e indietro dal destinatario omittente o è conosciuto sui due sistemi reciprocamente e grazie a questa chiave pubblica che si lega univocamente alla propria chiave privata, tutti questi giochi di firma o di criptografia funzionano e valore aggiunto proteggono appunto i documenti allegati agli email. Non so quanto sia riuscito a essere chiaro in questa parte teorica, diciamo che quando io l'ho scritto poi pure di rileggermelo non sono riuscito a capirlo io, ma dopo un po', quindi mi immagino che sentendomi raccontare così non sarà il massimo della chiarezza per voi, però grazie a questo link vi potete leggere con calma il succo del funzionamento, la teoria che ci sta dietro, leggetevi pure anche questa mia scaletta che vi lascio qui, potete bloccare il video, se vi interessa naturalmente, perché poi se qualcuno interessa solo la parte pratica installa, usa e chi se ne frega esattamente come funziona, però appunto. Per trasparenza e nel nostro mondo open source ritengo che male non faccia sapere cosa si fa, che non sia una scatola nera, una black box, qualche accenno a cosa succede dietro, male non fa. Adesso passiamo, torniamo un attimo alla parte pratica nel senso di capire come vengono gestite queste chiavi, con cosa in Ubuntu. Ho detto all'inizio che c'è lo strumento Seahorse, quindi il cavalluccio marino, che appunto è il gestore di chiavi in Ubuntu. Noi lo possiamo far partire, cerchiamo l'applicativo Chiavi, ecco, Password e Chiavi, se cercate questo applicativo è proprio questo. Dietro questa icona ci sta il nostro Seahorse, che ve lo posso far vedere qui, ecco vedete si chiama Seahorse. Ecco, Seahorse si suddivide in chiavi personali, che sono poi le mie chiavi con le quali posso firmare i documenti, quindi le mie chiavi private, quelle personali che mi servono appunto per poter firmare i documenti, e poi c'è una scheda qui, altre chiavi che sono quelle che io raccolgo dei miei recapiti. Sono le chiavi pubbliche degli altri. A loro volta, gli altri che partecipano a questo sistema PGP, avranno in questa scheda altre chiavi, diciamo, presumendo che anche un mio ipotetico recapito, usi Ubuntu, usi lo stesso sistema, usi Seahorse anche lui, avrà nella scheda altre chiavi la mia, o le mie, una di queste due, chiavi personali, ma non ovviamente quella privata, ma quella pubblica. Ecco, quindi io ho le mie private, diciamo così, e la mia raccolta di chiavi pubbliche, quindi con queste chiavi posso firmare i documenti, con queste altre chiavi pubbliche posso cifrare i documenti e inviarli a questi recapiti che poi posso scegliere, come abbiamo visto all'inizio del video. Però se non ho mai usato le chiavi PGP, devo crearmele come faccio, per crearmi le chiavi, con aperto Seahorse posso scegliere Nuovo, Nuovo, e vedete che ci sono varie cose che si possono creare, ma quella che ci interessa in questo video è la chiave PGP, noi vogliamo creare una chiave PGP, vedete, utilizzata per cifrare email e file, scegliamo quella voce, facciamo continua, e ci viene chiesto un nome e cognome, vabbè, io rimetto ancora una volta il mio, un indirizzo email, diciamo qua, usiamo questo, commento e poi uguale terza chiave personale, visto che le due, due ne ho già, opzioni avanzate, non mi ricordo cosa siano, ma vanno bene così, nessuna scadenza, è già tutto per difetto, sono già impostate le opzioni che vanno bene, quindi nessuna scadenza, perché una chiave può anche essere impostata con una scadenza, quindi dopo una certa data e ora, non è più valida da usare, però diciamo che noi creiamo la nostra chiave, che useremo sempre, schiacciamo crea, e poi ci chiede di impostare una password per proteggerla questa chiave, quindi tutte le volte che vogliamo usare la nostra chiave privata, ci chiede una password, e quindi è in posto, che non ha niente a che fare con altre password, potete mettere quella che volete, fate ok, e adesso sta generando, vedete che sta generando la mia nuova chiave PGP, che magari per qualcuno di voi può essere la prima, per altri no, che sanno già come fare, comunque, adesso non mi ricordo cosa ci metta, ma credo che, ecco qua, voilà, vedete che è apparsa qui, fra le mie chiavi personali, è apparsa la mia terza chiave personale, con la sua password, che può essere diversa da quella di questa, e da quella di questa, se guardiamo le proprietà di questa chiave, vedete che potete anche metterci una fotografia vostra, di voi, per distinguerla che la vostra, vi dice che è stata creata con questo email, sulla base di questo email, il nome è questo, cifra file email ricevute, sono dentro io, con questo nome, i vari dettagli tecnici, le varie codifiche di questa chiave, scadenza nessuna, appunto, eccetera, 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 la fiducia, cioè che questa firma sia proprio mia, ovviamente per me è completa, sono io che l'ho creata, posso anche esportarmela se voglio, eccetera, chiudiamo le proprietà, e quindi questa chiave adesso è disponibile per firmare, per esempio, se io volessi firmare di nuovo questo messaggio, a questo punto non ho più solo due chiavi personali, ma è apparsa anche la terza, e quindi posso firmare come abbiamo visto all'inizio del video, molto bene, questa chiave naturalmente non è solo privata, ma c'è anche la sua parte pubblica. Per rendere noto al mondo che io ho questa chiave, posso pubblicare questa chiave pubblica, la parte pubblica della mia chiave, scusate, posso pubblicarla sui cosiddetti server di chiavi pubbliche, un esempio di server di chiave pubblica è per esempio questo, http, cheiserver.com, ce ne sono diversi sparsi per il mondo, che si aggiornano a vicenda, cioè tutti i server, dopo relativamente poco tempo, conosceranno tutte le chiavi identiche. Ecco, se apriamo questo link, vediamo che, questo per esempio è di Ubuntu, però, ripeto, ci sono altri server, server che accumulano, che archiviano le chiavi pubbliche, possono essere cercate anche, ecco, per vari criteri, ma per esempio, io posso mettere anche il mio cognome, così come il cognome di un recapito che mi interessa usare, per mandargli qualcosa, voglio cercare se lui ha una chiave che posso usare, io metto per esempio il mio cognome Yelmorini, faccio invia, e vedete che ci sono le varie chiavi che nel tempo ho creato, non creato, insomma, le prove che ho fatto, eccetera, eccetera. Ecco, vedete, ci sono le varie chiavi, tra le quali la chiave personale 2, la chiave personale 1, ma naturalmente la 3 non c'è ancora, la chiave personale 3 non c'è ancora, perché non l'ho ancora necessariamente annunciata, come faccio ad annunciarla a questi server, che poi è utile, perché non c'è da temere, la chiave pubblica ha proprio quel ruolo di essere pubblica, quella privata resterà tranquillamente nel nostro sistema, privata, nascosta per noi. Come si fa? Si usa la funzione remoto, e si sincronizza e pubblica le chiavi, sincronizzando e pubblicando le chiavi, ecco, in questo caso ho selezionato quella nuova, perché le altre, avete visto, sono già presenti sui server, mi serve solo sincronizzare questa nuova, schiaccio sincronizza, e lui renderà noto ai server, che ora ho anche quest'altra chiave pubblica. E questo è fatto. Ecco, la ricerca delle chiavi, che abbiamo fatto qui direttamente sul server, può essere fatta anche comodamente da Seahorse, sempre da remoto, cerca chiavi remote, io posso cercare per il Morini, faccio trova, e lui mi mostra tutte, tutte le chiavi, che abbiamo visto anche qui, esattamente quello che abbiamo visto qui, su uno dei server, delle chiavi, Seahorse si interfaccia questi server, e mi mostra, vedete che c'è già anche la terza chiave personale, perché l'ho appena annunciata ai server, e già li conoscono. Il vantaggio di cercare le chiavi con Seahorse, rispetto a cercarle direttamente sui server qua, voi vedete qui le chiavi, questa è la parte pubblica della chiave, ecco, volesse importarmela fra i miei recapiti, e giusto per chiarezza, per i miei recapiti, intendo, scusate, intendo, fra le altre chiavi, cioè fra coloro ai quali potrei inviare qualcosa di criptografato, in Seahorse, basta che io scelgo, una chiave, e schiaccio in porta, a questo punto mi apparirebbe qua, fra le altre chiavi, cioè fra quelli, le chiavi pubbliche degli altri nel mondo, e qui quindi basta fare un click, volendo lavorare direttamente sul server, e io dovrei fare un copia e incolla di questa parte di chiave pubblica, incollarmelo nell'editor di testo, salvare il file, per poi importarmi quel file, quindi è un po' più scomodo, ed ecco perché io consiglio di usare praticamente tutto in Seahorse, perché è comodo, basta un pulsante, voglio mandarlo al mio amico Pinco Pallino, cerco Pinco Pallino, clic, importa, ed è fatta, e me lo ritroverò qua, e da quel momento in avanti, io posso colloquiare in modo sicuro, via mail, con questo mio nuovo recapito, appunto, cifrando o firmando, o firmando con le mie chiavi private, i documenti, ecco, vediamo se non ho dimenticato niente, salvare le chiavi, ve l'ho detto, quindi si può cercare tutto, e con questo menu remoto, da una parte si sincronizza, dall'altra si cercano, e si importano le chiavi che interessano, pubbliche, quindi si gioca su queste due schede, il tutto, ecco, dove sul proprio PC, per concludere, dove vengono salvate queste chiavi, perché qui le vedete elencate, tutte belle, bene in chiaro, e, ma dove sono questi due archivi? Ecco, sul proprio PC, vengono salvate in questa cartella nascosta, della nostra home, quindi, .gnupg, faccio clic per aprirlo, eccolo qua, quindi nella vostra home, visualizzate i file nascosti, quindi quelli che iniziano col puntino, e c'è una cartella, gnupg, e i file che ci interessano, sono pubring, che sono le chiavi pubbliche, cioè, questo, guardate un attimo, allora, in pubring, sono salvate in modo cifrato, ovviamente, e non in chiaro, le chiavi degli altri, quindi quelle pubbliche, queste, questo elenco, è contenuto in pubring, le mie chiavi personali, cioè quelle private, sono, salvate in sec ring, quindi, secret ring, se vogliamo, quelle segrete, quindi, i due file importanti, i due archivi importanti, sono questi due, dico perché importanti, perché, quando cambiate PC, quando reinstallate il vostro sistema da nuovo, e volete ripristinare esattamente questa situazione, è importante ripristinare in questa cartella, questi due file, così ripartite esattamente da questa situazione, questo è importante, perché se non lo fate, rischiate di perdere il ruolo di queste vostre chiavi private, che diventano pubbliche come tutte le altre, quindi è importante che seg ring e pubring, ve le trascinate di installazione in installazione, così ripartite esattamente da questa situazione, così come ho già fatto io, per esempio da Ubuntu 10.04, quando ho installato in aprile, questa nuova 12.04, ho ripristinato questi due file, e sono ripartito con i miei archivi di chiavi, ecco, spero di non essere stato, né troppo incasinato nelle spiegazioni, né troppo lungo, perché, questo è un capitolo in sé importante, per la protezione dei nostri dati, in video passati, vi ho già parlato ampiamente della protezione dei dati sul PC, con la criptografia della home, eccetera, eccetera, con le password, eccetera, eccetera, e anche questo è un capitolo importante, cioè lo scambio di mail, con documenti delicati, o sufficientemente delicati, per dover essere protetti, abbiamo un sistema in Ubuntu, che praticamente con due click è installato, ed è già subito disponibile, PGP è un sistema noto in tutto il mondo, non è una cosa particolare di Linux, ma vale per tutti i sistemi operativi, proprio è una cosa notissima, non è una cosa strana, che solo per Ubuntu, è proprio una cosa notissima, PGP lo possono usare tutti, lo usano in tantissimi, ricordatevi quindi che se avete uno scambio di mail, delicato, importante, perdete quel 30 secondi, quel minutino in più, per quantomeno firmare il vostro documento, come minimo, oppure addirittura ancora meglio, cifrarlo, mettetevi d'accordo col vostro omittente di turno, in modo che anche lui, se non l'ha, si crei le sue chiavi PGP, e possa partecipare a questo sistema, come in tantissimi nel mondo, e vedrete che potrete avere uno scambio protetto, veramente ci vuol poco sia a cifrare, che poi a decifrare per il destinatario, quindi ne vale la pena, ecco, ho finito, spero, abbiate trovato interessante anche questo video, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto, e alla prossima, ciao ciao!